Ciao, buongiorno. 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 Certo, io ero qua. Sì, sono qui? Sì, sono bellissima. Prima parte dello shooting fotografico fatta. Sei soddisfatta delle foto? Allora, ieri sera non abbiamo capito praticamente nulla. No, non abbiamo fatto sempre questo. Che cosa abbiamo fatto? Io ho fatto aggettivo che abbiamo mangiato come due maiali. Due focacce, dai! E siamo venuti a camminare. Sì, ohcianko! Sì! Sì. 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 sono abbannati gli occhiali